Il gusto del Garda Trentino incontra la Germania ed è un successo. Tutto avviene durante la Rheingau Gourmet & Wein Festival, uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi, tra quelli dedicati alla gastronomia di alta qualità, nella regione tra Francoforte e Weissbaden, nella magica atmosfera di due storiche location, il convento di Eberach, dove si è svolta la serata di benvenuto, e il castello di Kronenschlossen, per le giornate dove, per partecipare alle esclusive serate, i commensali hanno pagato fino a 1290 euro a testa. Protagonisti dell'evento, 24 chef stellati ed emergenti, che provenivano da diversi paesi europei, ma anche da Cile e Libano. L'Italia è stata rappresentata da Giuseppe Sestito, Chef Executive de Il Re della Busa e Tre Mani, i ristoranti dell'hotel Lido Palace di Riva del Garda, che ha portato in Germania la sua bravura, insieme alla tradizione e all'eccellenza enogastronomica del Garda Trentino. Per realizzare le sue creazioni, Sestito ha utilizzato i prodotti e le materie prime del territorio, la maggior parte dei quali portati con sé direttamente dalle migliori aziende del Garda Trentino. Con le sue performance, Sestito è stato il miglior ambasciatore dell'eccellenza enogastronomica del Garda Trentino e uno spot di grande valore per il territorio. Allo stesso scopo, per rinsaldare il legame tra l'Alto Garda e la Germania, l'azienda di promozione turistica Garda Trentino ha allestito uno stand informativo all'entrata della location che ha funzionato durante i 19 giorni dell'evento.